video doveroso ragazzi video doveroso perché nel day after di Juventus Inter 0-0 ci sono state diverse polemiche legate non tanto al risultato del campo che ha portato la Juventus in finale di Coppa Italia a discapito dell'Inter quanto più per un brutto episodio che è avvenuto sia all'intervallo che soprattutto al termine della partita fra Antonio Conte e Andrea Agnelli, avrete sicuramente letto della vicenda, i due si sono scambiati diciamo non proprio dei complimenti per usare un eufemismo e quindi noi di Passione Inter io in particolare siamo qui per farvi questo video sia per ricostruire un attimo la vicenda e per chiarire le idee a chi magari non abbia ancora ben capito cosa sia accaduto e anche per dire un po' la nostra opinione perché io, il nostro Lorenzo Polimanti ma anche un po' tutta la redazione ci siamo confrontati sul tema, ci siamo confrontati anche sulle reazioni che abbiamo visto arrivare dal mondo del calcio e detto sinceramente c'è qualcosa che secondo noi non sta andando per il verso giusto ecco, mettiamola così prima di approfondire l'argomento ci tengo però a ringraziare il nostro Gigi Young Malatesta uno dei nostri abbonati al canale YouTube il sostegno di Gigi e di tutti gli altri nostri abbonati è davvero fondamentale per noi ve lo ripetiamo spessissimo per permetterci di portarvi quotidianamente tanti contenuti, le nostre dirette dalle ore 19 e anche a volte quelle del mattino e dell'ora di pranzo e quindi il sostegno da parte dei nostri abbonati e in questo caso del nostro Gigi è davvero molto molto importante vi ricordo che per chiunque volesse approfondire il discorso relativo agli abbonamenti al canale YouTube di Passione Inter e portare il suo supporto al nostro progetto trovate in descrizione un link per approfondire appunto il discorso relativo agli abbonamenti YouTube per capire tutti i vantaggi che avreste abbonandovi o in alternativa potete andare anche su patreon.com slash Passione Inter andiamo quindi al tema prima di tutto mi sembra doveroso fare una ricostruzione degli eventi c'è stata una ricostruzione parziale arrivata già nella serata di ieri che è stata poi arricchita in questo caso da alcune indicazioni che sono arrivate sono state riportate dalla gazzetta dello sport e arrivate più lato Inter quindi vi farò una ricostruzione sulla base di quello che è stato detto lato Inter anche perché fino ad ora fino al momento in cui sto registrando questo video non è arrivata diciamo una versione ufficiale Juve ecco non è stata data o quantomeno non ha aggiunto nulla di quanto già le immagini abbiano mostrato la ricostruzione lato Inter che mi permetto di dire al di là del tifo che è inutile nasconderlo da parte mia e da parte di Passione Inter è nell'azzurro mi sembra abbastanza verosimile l'Inter sostanzialmente ha detto che anzitutto per tutta la prima frazione di gioco della partita sono arrivati dalla tribuna dove appunto sedevano i dirigenti i bianconeri una serie di insulti e di attacchi nei confronti di Antonio Conte anche con parole colorite il famoso coglie e completate voi è arrivata la parola pagliaccio è stato detto stai zitto e pensa a lavorare sia da a quanto pare dal presidente Agnelli che anche da altri dirigenti lì presenti inoltre e questo ve ne sarete accorti tutti perché è stato anche inquadrato dalle telecamere dalla panchina Leonardo Bonucci nel momento in cui Conte stava protestando per un presunto rigore che poi in realtà non c'era ai danni dell'autorio Martinez Bonucci avrebbe urlato a Conte devi rispettare l'arbitro e qui mi permetto di dire che fa abbastanza sorridere oggettivamente che questa chiamiamola Ramanzina arrivi proprio da un personaggio come Bonucci vabbè chiusa parentesi poi cosa è accaduto alla fine del primo tempo quindi al fischio al doppio fischio dall'arbitro Mariani è arrivato un nuovo diciamo un nuovo attacco da parte di Agnelli nei confronti di Conte gli avrebbe urlato pensa ad allenare coglie un'altra volta e questo a quanto pare sarebbe il motivo per il quale Conte spazientito dopo aver sentito tante volte questi attacchi avrebbe fatto questo gesto del dito medio nei confronti della appunto della parte della tribuna in cui stavano i dirigenti della Juventus nel tunnel poi le cose sarebbero continuate perché l'Ele Oriali avrebbe cercato ripeto questa descrizione che ha riportato la gazzetta allo sport avrebbe cercato di diciamo proteggere i suoi giocatori dicendo non permettetevi dicendo ai dirigenti alla Juve non permettetevi di parlare con i nostri giocatori e con lo staff a quel punto Fabio Paratici DS della Juve avrebbe risposto con una frase che se confermata sarebbe davvero molto molto grave perché gli avrebbe detto ti conviene starci lontano altrimenti è la volta buona che ti picchio ecco ripeto questa non potremo sapere mai in questo momento se è la realtà dei fatti però qualora venisse confermata da successivi approfondimenti di indagini secondo me sarebbe la frase più grave di tutte più di quello che è stato detto tra Conte e Agnelli e tutto il resto poi al fischio finale della partita e qui non vi sto raccontando nulla di nuovo le immagini hanno inquadrato Andrea Agnelli che scendendo le scale della tribuna avrebbe urlato ancora una volta l'Antonio Conte stai zitto coglie e avrebbe continuato appunto a ripetere quest'ultimo termine più volte dopo essersi coperto la bocca addirittura nel corso di queste ore è arrivata anche cioè qualcuno ha provato a tirare in ballo anche Marotta dicendo che lui abbia partecipato a questo duello verbale pare che non sia così perché pare che Marotta avesse già lasciato la tribuna e si stesse dirigendo negli spogliatoi senza passare per il campo perché questa è una prerogativa riservata ai soli dirigenti Juve quando si gioca ovviamente all'Allianz Stadium quindi facendo un punto della situazione a quello che filtra casa Inter è un grande grande fastidio percepito per l'atteggiamento della dirigenza e della panchina della Juventus nel corso di tutta la partita fatta questa ricostruzione voglio fare anzitutto senza che distruggo il microfono una premessa ovvero l'episodio preso globalmente è da condannare al 100% cioè io non sono qui a dire ha ragione uno ha ragione l'altro uno è stato cattivo e l'altro no cioè messa proprio banalmente se Conte anzi Conte ha sbagliato facendo il dito medio ed è un gesto da condannare Agnelli ha sbagliato insultando Conte ed è un gesto da condannare qualora venissero confermate anche le parole presunte di Paratici nel tunnel degli spogliatoi anche lui avrebbe sbagliato e quello sarebbe un altro gesto da condannare io voglio solo chiarire alcune cose allora prima di tutto Conte è un allenatore Agnelli è un presidente e già qui tra parentesi ho sentito anche diversi tifosi giuventini e giornalisti giuventini essere d'accordo anche su questo punto non si possono paragonare queste due cariche quindi nell'errore che voglio ribadire per l'ennesima volta è arrivato da entrambe le parti l'atteggiamento di Agnelli in quanto presidente tra l'altro non solo della Juventus ma anche dell'ECA che è l'organismo che rappresenta le società calcistiche a livello europeo questa è la descrizione dell'ECA Agnelli è presidente della Juventus e dell'ECA quindi comunque sia eccedere come ha fatto lui non è di certo un qualcosa non è stato di certo un grande spettacolo ecco inoltre si può dire dal mio punto di vista che Conte abbia due attenuanti che non sono giustificazioni per sminuire quello che ha fatto sono attenuanti proprio perché come dice il termine possono attenuare quello che è stato un atteggiamento ripeto sbagliato ovvero il clima partita soprattutto per un allenatore come Conte e le diciamo presunte provocazioni continue che sembrano essere arrivate dalla panchina e dalla tribuna della Juventus e questi sono due attenuanti che invece Andrea Agnelli non aveva quindi questo non è per dire che Conte come ho già detto non abbia sbagliato è per dire che comunque Agnelli non aveva questi due attenuanti perché il clima partita Agnelli non lo stava di certo vivendo come lo viveva Conte e quindi questa secondo me è una prima grande differenza poi io voglio fare un piccolo appello perché poi so già che se questo video verrà visto dai tifosi Juventini naturalmente io mi auguro che ci sia qualcuno che voglia dialogare tranquillamente ma sono conscio che ci saranno anche molte altre persone che magari saranno qui ad insultare a tutto quanto io cerco di essere oggettivo ed onesto io parlo per me ritengo quantomeno improbabile che Conte così dal nulla si sia lasciato andare ad un dito medio nei confronti dei dirigenti in tribuna senza nessun motivo cioè sarebbe un qualcosa veramente di un qualcosa di veramente grave ma soprattutto immotivato mi sembra quindi plausibile non certo ripeto perché poi al limite si approfondirà il discorso ma quantomeno plausibile che possa essere una reazione sbagliata ma derivata da una serie di insulti e di attacchi precedenti rispetto al suo gesto quindi mi pare di poter dire mi sembra di poter dire che comunque una reazione di questo tipo essendo grave non possa essere nata da sé io faccio un parallelo molto rapido ricordo qualche anno fa Roberto Mancini allenatore dell'Inter in un derby fece il dito medio ai tifosi andando verso il tunnel e Mancini disse che e lo aveva fatto sbagliando perché gli erano arrivati tanti insulti quindi anche lì non è che Mancini era impazzito aveva fatto il medio a caso c'era stato un motivo in più come dicevo prima Andrea Agnelli è un presidente quindi ha un certo tipo di status e una certa carica non solo come presidente del club più vincente negli ultimi anni in Italia come presidente anche dell'ECA e quindi secondo il mio punto di vista non essendo nemmeno un dirigente qualsiasi con tutto il rispetto non può rivolgersi con certi termini e con certe frasi nei confronti di altri tesserati o comunque di altre persone quindi io voglio ribadirlo per l'ennesima volta io condanno entrambi i gesti cioè sia Conte che Agnelli hanno sbagliato l'errore è assolutamente reciproco ma pur nell'errore reciproco secondo me la gravità dell'azione di Conte rispetto alla gravità dell'azione di Agnelli anche nel contesto e nelle dinamiche in cui si sono sviluppate non può essere la stessa molto semplicemente perché hanno due cariche diverse e rappresentano un qualcosa di differente chiudo questa mia piccola analisi facendovi anche una domanda anche un po' provocatoria se lo stesso atteggiamento la stessa reazione di Andrea Agnelli l'avesse avuta Steven Zang magari nei confronti di Pirlo o comunque nei confronti di qualcun altro cosa si sarebbe detto oppure ancora meglio se questa stessa reazione l'avesse avuta Massimo Moratti di cui più volte sono stati giustamente criticati i famosi vaffa che Moratti rivolgeva all'arbitro al fischio finale di una partita magari anche vinta talvolta e sono stati dei gesti condannati aspramente nel corso della sua esperienza interista con grande indignazione da parte di tutti cosa avremmo detto mi limito a chiedere questo spero di avervi fatto anzitutto una ricostruzione dei fatti precise per coloro come dicevo che magari non avevano chiare le idee e spero anche di aver spiegato qual è la mia opinione perché comunque in altri casi ho visto quello che intendevo dire è che comunque in altri casi ho visto delle ripartizioni di colpe non portate al 50-50 mentre qui mi sembra di notare soprattutto il lato Juve e da un lato lo capisco perché poi è inevitabile che tu vada a stare un pochino più dalla tua parte mi sembra di vedere un tentativo di dividere equamente le colpe che secondo me non è propriamente corretto questa è la mia opinione vi invito quindi a scrivermi qui sotto nei commenti cosa ne pensate se siete d'accordo con me se non lo siete se pensate che abbia più colpa uno più colpa l'altro fatemi sapere spero come dicevo prima di poter dialogare in maniera tranquilla sia con i tifosi dell'Inter che eventualmente con i tifosi della Juve ringrazio nuovamente il nostro Gigi Young Malatesta per il supporto che ci ha permesso di registrare questa clip vi ricordo che in descrizione trovate il link per approfondire il tema relativo al supporto al progetto Passione Inter sia tramite gli abbonamenti a patreon.com slash Passione Inter che tramite gli abbonamenti al nostro canale YouTube vi invito se ancora non l'avete fatto ad iscrivervi al nostro canale e poi come vi diciamo sempre vi invito anche a seguire il cuore di Passione Inter su tutti quanti i profili social di Passione Inter